La mia lucera la vedo così, come sono indicate, anzi come sono raffigurate sulle tele, che sono un po' di antico, qualcosa di antico, qualcosa che adesso non c'è più. E come immagino che potrebbe essere una lucera pulita, una lucera dove esiste ancora la volontà di rendere bella una città, con i suoi monumenti, con i suoi scorci, che sono veramente belli. Come puoi vedere, non è rappresentato solamente il castello, la cattedrale, ma ci sono anche zone poco conosciute di lucera, che secondo me dovrebbe essere più valorizzate. Grazie. 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 Grazie.